ciao ragazzi e bentornati sul mio canale io sono il lanciere nuovo video ancora con le carte adrenalin xl della liga santander 2022 2023 ci sono rimasti gli ultimi 8 pacchetti del box premium da aprire sono i pacchetti da 5 euro 10 carte ogni pacchetto di cui 4 speciali e tra queste quattro c'è una carta limited edition esclusiva abbiamo una bella spacchettata che ci aspetta 40 euro di pacchetti 5 euro a pacchetto sono 8 pacchetti ma prima di partire vi ricordo come sempre iscrivervi al mio canale se ancora non avete fatto attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati su tutti i video le novità che andrò a pubblicare sul canale e soprattutto schiacciate un bel like a questo video detto questo direi di partire subito con il video e andiamo a vedere che cosa troviamo in questi pacchetti speriamo di trovare una delle carte rarissime quelle mitos o la miticos dell'invincibile c'è una piccolissima possibilità sono molto ma molto rare c'è anche l'autografo originale di gavi la tiratura di questo autografo è di sole 200 copie quindi è molto ma molto complesso intanto qui vediamo un po di carte base poi troviamo un premio premium è il premio premium c facciamo spazio poi dall'altro lato abbiamo ancora una carta base e poi la limite di una e simon l'autografata di una e simon limited poi troviamo edinson cavani supercrack che bella carta questa mi manca imparabili sono i giocatori del barcellona poi abbiamo due energie sono sadik e molina andiamo avanti perché ne abbiamo veramente tanti di pacchetti da aprire e continuiamo con miglia minghesa joachin bellissima questa che si poi dall'altro lato abbiamo la carta di oselu e poi grisman l'autografata di grisman ragazzi ho terminato il mio giro a fine video vi faccio vedere tutte le limited insieme grisman e ho terminato il mio giro di carte limited edition poi abbiamo la supercrack di pao torres masterclass e moncaiola guanto d'oro bonu e lo stemma della espagnola meno male ragazzi sono contento sono riuscito a terminare il giro delle limited perché non ero sicuro di trovarle tutte e 8 andiamo avanti altro premio premium c e poi troviamo fernando e a questo punto andiamo un po più lisci troviamo la limited edition di una e simon però la versione non autografata borca iglesias supercrack diamante e richelme e poi altre due energie sono quella di miglia e romeo pacchetto numero 4 e arriviamo così a metà troviamo zubamendi alvaro garzia coche sanchez poi troviamo sempre uno scudo a fine pacchetto e scudero la limited edition di grisman anche in questo caso non ha un pallone d'oro di pedri abbiamo trovato un altro pallone d'oro dove è il pallone d'oro più comune perché ho visto che in molti l'hanno trovato con grande semplicità il problema è trovare gli altri palloni d'oro del real madrid quelli del barcellona si trovano un po più semplicemente abbiamo la master class di lo celso blindados ruisilva e bravo e lo stemma del barcellona pacchetto numero 5 partiamo con balde morata per l'atletico sam costa alex baina il premio premium b poi la limited di questo pacchetto è ancora una simon in versione non firmata poi troviamo la supercrack di coche master class di munia in clivert energy e lo stemma del valencia ultimi tre pacchetti per terminare il video e soprattutto il box il box premium brasanak kangin lee vivian e in barba poi troviamo la limited di grisman autografato quindi un'altra carta di grisman autografato fede valverde supercrack master class di lenormand poi abbiamo un guanto d'oro e ledesma e la energy di larsen andiamo avanti vorrei trovare qualche carta molto rara shuameni gazzaniga javi sanchez guiamon il premio premium b vabbè ma da questo box io comunque ho trovato la momentum di lewandowski quindi non credo di trovarne più di una abbiamo altro grisman limited edition stanno uscendo un po troppi militao poi blindados e vivian e nico martinez per l'atletic la energy di ciò e lo stemma del girona ultimo pacchetto è l'ottavo a terminare il nostro spacchettamento allora troviamo pepe reina per il via real race man papo gomez zubel dia poi dall'altro lato c'è dopo iancouto troviamo ansufati limited edition non firmata poi blindados sotto per l'atletico gli imparabili joe felix morata e grisman e li mettiamo qui poi la energy di marchesin la ventesima poi altra energy e melero e lo stemma dello sasuna termina qua questo spacchettamento ragazzi ma il tempo di sistemare un po le carte vi faccio vedere il giro completo del limited edition per salutarvi ed ecco qua tutte e otto le limited edition sia la versione non firmata che la versione firmata di jeremy pino una simon grisman e ansufati a terminare il video ho trovato anche il pallone d'oro di pedri ragazzi con tutte queste carte io vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video dedicato alla liga santander ciao ciao